Daniela e mi Claudia, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costruzione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Sì. Claudia, ricevi quest'anello nel segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Daniele, ricevi quest'anello nel segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie a tutti.